Cletopillus prunulus, chiamato anche il fungo spia, è un fungo commestibile però bisogna stare attenti con le clitocibe bianche che sono tossiche. Uno qua e uno piccino. Quindi qui in zona in teoria ci potrebbe essere il nostro bene amato porcino. E infatti come per magia, ecco qua, questo è un Boletus estivalis di nascita. Noi lo lasciamo qua perché è di sottomisura, però guardate bellissimo il reticolo. Comunque ricordatevi quando vedete il Cletopillus prunulus, il fungo spia, che è un buon fungo edule, di cercare nei dintorni perché fa da spia al nostro bene amato porcino. Ciao a tutti! Ragazzi, c'è una buttata incredibile. Speriamo che non me li prenda nessuno perché ancora sono piccoli. Eccoci, un'altra piccola nascita. Qui c'è una bella coppiola pronta a spuntare. Ciao! Eh, qui la situazione comincia a farsi interessante. Questo non è di misura. Questo è proprio giusto, giusto, giusto. E accanto... Questo invece è piccolo, piccolo e lo lasciamo. Ciao a tutti! Ciao a tutti!